Cavolfiore al forno con olive e capperi. Questa ricetta di marzo, è un primo piatto facile e veloce da preparare con un ingrediente della stagione, il cavolfiore. Il tocco di sapore in più è dato dalle olive e dai capperi, che gli donano quel tocco di sapore intenso che ne fa un piatto saporito e gustoso. Per realizzare questo primo piatto servono pochi ingredienti, che possono essere facilmente reperiti in qualsiasi supermercato. Ecco gli ingredienti che vi serviranno. Un cavolfiore, un spicchio d'aglio, le olive verdi denocciolate, capperi, origano, olio extravergine d'oliva, il sale. Iniziate lavando bene il cavolfiore e tagliandolo a cimette. Mettetelo in una pirofila unta con un filo di olio. Aggiungete l'aglio tritato, le olive, i capperi, l'origano e un filo di olio. Mescolate bene. Aggiungete un pizzico di sale. Coprite con un foglio di alluminio e infornate a 180 gradi centigradi per 25 minuti. Una volta cotto, togliete il foglio di alluminio e fate gratinare il cavolfiore per altri 10 minuti. Servite ben caldo e gustate. Grazie. 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 Grazie.